Il numero estivo di notizie in il magazine della Regione Piemonte è consultabile anche attraverso l'app per dispositivi mobili, scaricabile dall'Apple Store o da Play Store. In questa versione digitale sono a disposizione contenuti aggiuntivi che arricchiscono gli articoli, come foto, video, file audio e documenti di approfondimento dei temi trattati. I servizi principali sono reperibili anche su medium.com slash at crpiemonte.